Si chiude così con un canestro realizzato nel Palapentassuglia di Brindisi, la visita del ministro allo sport e giovani Andrea Bodi nel capoluogo a Messapico. Il ministro è stato accolto dai dirigenti della New Basket Brindisi nel palazzetto del quartiere La Rosa. L'incontro è stata l'occasione per fare il punto sulla realizzazione della New Arena. A pochi metodi da qui nascerà il nuovo palazzetto che risponderà a nuove esigenze di contemporaneità, di accessibilità, di efficienza energetica, di intelligenza tecnologica, di sicurezza. Insomma un pezzo di patrimonio sportivo nuovo che arricchisce l'offerta della città. Andiamo avanti, guardiamo il futuro con rinnovato ottimismo e la presenza anche del sindaco questa sera ci fa ben sperare che la prima pietra non tarderà molto a essere posata. Poco prima il ministro dello sport si era recato allo stadio Franco Fanuzzi per un saluto alla squadra di calcio della città e ai suoi dirigenti. Strutture non eccellenti, che cosa possiamo dire a questi dirigenti ministro? C'è una legge che cercheremo di migliorare ulteriormente, che è la legge sulle infrastrutture sportive che ormai ha quasi dieci anni, è stata un po' migliorata e dà degli strumenti per poter ottenere il diritto di superficie, quindi una proprietà temporanea. Io penso che ci sia bisogno di dialogo tra le istituzioni. Oggi per Brindisi credo sia un giorno importantissimo per la Brindisi calcistica e per la Brindisi sportiva in genere. È importante che queste strutture diventino autosufficienti sotto tutti i punti di vista e che vengono valorizzate. È importante che queste strutture vengono valorizzate, manutenzionate e che soprattutto oggi si parla tanto di crisi energetica che diventino, come ha detto appunto il ministro, autosufficienti dal punto di vista dell'energia, gas e luce, insomma, perché ci accorgiamo che sono costi importanti anche per l'amministrazione comunale. Al circolo tennis invece, alla presenza della campionessa Brindisina Flavia Pennetta, il ministro ha illustrato il programma di lavori di adeguamento e completamento dell'impianto sportivo finanziato dal piano operativo degli interventi sport e periferie 2020. Dovrebbero iniziare a breve i lavori, siamo tutti molto entusiasti anche se ci saranno naturalmente dei problemi per i soci o per chi verrà qui al circolo, però credo che ne valga la pena.